Queste le previsioni meteo per sabato 3 agosto. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutta la regione per buona parte della giornata. Nel corso delle ore pomeridiane si assisterà ad un lieve e graduale incremento della copertura nuvolosa a ridosso dei principali comprensori montuosi. In tale contesto non si escludono possibili precipitazioni di debole o al più moderate entità su aria etnea e nebredea. Le temperature saranno stabili su tutta la Sicilia orientale, in lieve diminuzione altrove. Saranno possibili punte fino a 41-42 gradi sulla piana di Catania, venti molto deboli da direzione variabile o a tratti assenti di notte al mattino in serata. Nel corso delle ore centrali del giorno la ventilazione ispirerà regime di brezza con debole o moderata intensità. Mari, quasi calmi o poco mossi, tutti bacini. Mossi, localmente e a tratti, il basso Ionio e il tirreno occidentale. Queste previsioni sono fornite grazie alla collaborazione con il Centro Meteorologico Siciliano, sigle a cura di AP Web Radio e in Social TV. Sous-titrage Société Radio-Canada